Ragazzi, quarta e ultima parte di X Guadiari dei Cristalli Diciamo che su tre parti ho trovato due X Non male per essere i pecs random Vediamo nell'ultima parte se possiamo concludere anche con una bella X Incrociate le dita anche per me E abbiamo Lothad Meditite Ricerca di energie Di energia Aaron Trico Pokénav, questa è una battaglia navale Leiron Electra e Creverts E questo Igli Puff Raro Che c'è dovunque e per dunque Ok E' difficile farne 500 Allora No ragazzo, vedete anche voi il bordino Grigio Allora, Spiro Cacnea Charmander Torchic Wingull Cerchio di Olon Pokénav Speriamo che non ce l'ho Mi sa di sì però Trico Reverse E Shift 3X Mannaggia la morte Mi sembrava strano che Non c'era qualcuna doppiona Che ho trovato Già nella terza parte Shift 3X Aspettate che sono qua Ma adesso si rovinano le carte Maledetti pacchetti Della miseria Eh Allora 2,5 Abbiamo Mudkip Lotad Duskul Trico Mudkip Combusken Warthortle Spiro Reverse E Grovile Raro Un po' di Blasi Che è nell'artwork Di Blasi Blasi Basta Quando è così Non dico più niente Allora Un altro bordino grigio Trico Aron Non lo voglio vedere Sidot Mudkip Duskul L'ombre Network di Celio Spoint Reverse E Delchetti X Sì Sì che Delchetti X Non ce l'avevo Le mie 4 X Le avevate già viste Yes Come on baby Dai Dai L'ultima parte Con 2 X Anche se una Sdoppione Non mi interessa A proposito Per chi volesse Shift 3 X La vendo E non è in scambio E' esclusivamente Vendita Quindi Chi è interessato Mi facesse offerte In privato Bulbasaur Wisemore Squirum Trico Aron Cerchio di Olon Shappet Camerop Televerse E Medici Amrar L'orrendo Medici Amrar Tu fai una fatica Apri sti pacchetti Oh Ma com'è Allora Bulbasaur Torchic Sidot Trico Wingull Skinny Gulping Iggy Puff Reverse E Blastoise Raro Allora Apriamo E vabbè Guardate ragazzi Ma qui Questo pacchetto Allora Andiamo Un altro bordino grigio 3 X Nella quarta parte Electrike Non la voglio vedere Ti ho detto Perché scivolano Bulbasaur Torchic Spoing Spoing Wingull Charmeleon Warthortle Charmander Reverse Explodex Vaffan Vaffanbrodo Portacci tua E anche Expo Dex In vendita Andiamo qui Allora Lotad Charmander Torchic Meditate Bulbasaur Nudslip Ivisaur Bellissimo Questo altro Mi piace troppo Camera Traverse E un altro Bruttissimo Orrendo Medi Charmander Bruttissimo Bruttissimo Togliamoli tutti Allora Charmander Electrike Bulbasaur Torchic Spoing Nudslip Warthortle Torchic E Weissmull Reverse E Ragazzi Cioè Vedete anche voi Quello che vedo io Celebi Goldstar Cioè Celebi Goldstar Da 100 Su 100 Mi aspettavo di tutto Cioè Ragazzi Questa quarta parte È Stata Allucinante Allucinante Vabbè Sede Bigo Star Allora Squirrel Trico Aaron Sidot Mudkip Punto Punto di curvatura Leiron Diglett Reverse E Laudred Raro Allora Ragazzi Ribadisco È stata Un'apertura Fantastica Vi dico Nuomamente Che Shift 3x Ed Explodex Sono in vendita Quindi per chi Volesse Mi contattasse In privato E facesse Offerte Ovviamente È utile che Ve lo dico In italiano Perfette condizioni Appena Sbustate Adesso Appena Chiudo Il video Le metterò Immediatamente In sleeve Ragazzi Vi ringrazio Sempre Per la visione Aspetto Di arrivare A 3.000 iscritti Per potervi Regalare Ancora Belle cose Riguardanti I pokemon Like Mi piace Commentate E sempre Un grazie A tutti Bye bye Da PokeShiny